Buon lunedì a tutti ragazzi e ragazze, buon inizio settimana. Io sono Angela e oggi parleremo di Adriana Volpe, ieri ospite a Live, non è la D'Urso. Adriana Volpe, come ben ricordiamo, ha scelto di abbandonare il grande fratello Vip dopo un grave lutto accaduto nella sua famiglia. Il suo ogere infatti colpito da coronavirus è deceduto. Ed è proprio ieri da Barbara D'Urso a Live che Adriana racconta il suo dramma. Infatti dice che una volta uscita dalla casa del grande fratello, quando ha visto la produzione con le mascherine e mentre gli stavano spiegando tutta la situazione, lei ha veramente capito la gravità. Una volta abbandonato poi la casa, Adriana arriva in Svizzera, nella clinica proprio dove il suo ogere è stato ricoverato. E lì racconta il momento più doloroso, oltre alla perdita del papà di suo marito, è che non è riuscita nemmeno ad abbracciare sua figlia. Infatti racconta, volevo abbracciarla. Quando sono entrata in quella casa mi hanno dato subito il protocollo da rispettare e non potevo abbracciare nessuno. Devo rimanere a distanza, immarginati una mamma che vede la figlia e non può abbracciarla. Facevo il gesto delle braccia intorno a me per darle il senso e tutto è stato tremendo. Ovviamente Adriana ha dovuto rispettare i 15 giorni della distanza con sua figlia, ma adesso tutto è ritornato alla normalità e piano piano stanno recuperando il grave lutto che li ha colpiti. Ovviamente il ricordo di suo suocero, un uomo che lei amava molto, rimarrà per sempre nel suo cuore. Oltre a lei, ieri da Barbara D'Urso sono stati intervistati anche altri protagonisti del Grande Fratello come Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, ma lo scopriremo in un prossimo video.